Capitolo 85 – Le stelle Per il cielo dalle costellazioni Per il giorno promesso Per il testimone e la sua testimonianza Sia maledetta la gente del fossato Dal fuoco incessantemente attizzato Quando se ne stavano seduti accanto Testimoni di quel che facevano ai credenti E non li tormentavano che per aver creduto in Allah Il potente, il degno di lode Colui al quale appartiene la sovranità dei cieli e della terra Allah è testimone di ogni cosa In verità coloro che perseguitano i credenti e le credenti E poi non se ne pentono, avranno il castigo dell'inferno e il castigo dell'incendio In verità coloro che credono e compiono il bene avranno i giardini dove scorrono i ruscelli Questo è il grande successo La risposta del tuo Signore è severa In vero Egli è colui che inizia e reitera Egli è il perdonatore, l'amorevole Il Signore del Trono Glorioso Colui che fa tutto, ciò che vuole Non ti è giunta la storia delle armate Di Faraone e dei Tamud I miscredenti continuano invece a tacciare di menzogna Nonostante che Allah sia dietro di loro e li circondi Questo è invece un Corano glorioso Impresso, su di una tavola protetta